Assessore Di Pietro, rivoluzione negli uffici anagrafe del comune di Pescara. Da gennaio ci saranno dei cambiamenti, ci saranno delle novità e anche nuovi orari. In Piazza Italia l'ufficio sarà aperto tutti sabato mattina, dalle 8 alle 12.30, proprio per permettere ai lavoratori di avere un orario più comodo per raggiungere l'ufficio. Inoltre, per ottimizzare anche le risorse umane a nostra disposizione, le circoscrizioni saranno aperte solo il martedì e il giovedì, ma intera giornata. Martedì e giovedì che però saranno garantiti con questo nuovo orario. Noi abbiamo anche previsto un dipendente jolly, diciamo, che potrà garantire l'apertura sempre. Quindi per chi non potrà deambulare o per gli anziani, sanno che ogni martedì e giovedì, intera giornata, mattina e pomeriggio, potranno fare la carta d'identità, lo stato di famiglia, qualunque certificato vicino a casa loro. Per gli altri che magari hanno delle urgenze o più fretta, dovranno venire qui in Piazza Italia, ma avranno anche il sabato a disposizione. Ci sarà anche il timbro digitale da qui a poche settimane? Sì, tutta questa rivoluzione, diciamo, è propedeutica all'arrivo del timbro digitale che arriverà entro giugno 2016. In realtà la gara per acquistarla è già partita. Che cos'è il timbro digitale? Fondamentalmente è un software che permetterà a chiunque da casa di stampare comodamente il certificato anagrafico di cui ha bisogno. Ovviamente parliamo di quelli che non necessitano della firma. E abbiamo anche pensato, da gennaio ci lavoreremo, di attivare una convenzione con i caffè e i tabaccai della zona per permettere a chi non ha un computer o una stampante a casa di poter andare in comodamenti in un tabacchino sotto casa e ricevere questo certificato.